Grazie a voi Sila per la serietà, puntualità, precisione degli appuntamenti, perché oggi sapete che quando è un appuntamento invece loro sono stati precisi perché si spartano ma alla fine non è te, va bene Sila è pronta, comincia Sila e poi vi saluterà Davide con due canzoni facciamo uno o due? Due, due dico dal pubblico, quindi va bene, allora Sila vieni Grazie a tutti 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 Grazie a tutti